per ribadire in modo chiaro, netto e senza possibilità di fraintendimenti che lo scopo di tutti è dichiarare guerra al caporalato e soprattutto intensificare tutte quelle che sono le azioni a contrasto di un sistema che mortifica il lavoro, che mette a repentaglio le vite umane e che soprattutto non fa crescere certamente la qualità del lavoro e quella del lavoro in un comparto strategico importantissimo come quello dell'agricoltura.